Prepariamo insieme un rotolo di spinaci e ricotta buonissimo Iniziamo la preparazione di questo rotolo Prendiamo 5 uova Separiamo i tuorli dagli albumi Togliamo gli albumi e andiamo avanti con i tuorli Sbattiamo un pochino e aggiungiamo 70 g di parmigiano Aggiungiamo un pizzico di sale Una macinata di pepe Un cucchiaino di aceto balsamico E un pochino di noce moscata Ora possiamo aggiungere gli spinaci Mescoliamo bene Mettiamo via gli spinaci e riprendiamo gli albumi Li andremo a montare a neve fermissima con un pizzico di sale Direi che abbiamo raggiunto la consistenza giusta Ora lo andremo ad unire al composto di spinaci e uova Il composto è pronto per essere versato su una teglia da forno Questa è circa 23 cm per 33-34 cm Se avete una teglia dai bordi più bassi è anche meglio Foderiamola con carta forno Lo livelliamo un pochino Cerchiamo di rendere lo spessore uniforme Pronto per essere infornato A 180 gradi per circa 20 minuti Dovrà risultare rappreso però ancora morbido Ci vediamo tra poco Ho appena sfornato il nostro rotolo Ora lo andrò a rovesciare su un altro foglio di carta forno Dove ho messo del parmigiano Prendiamo la carta Nel frattempo che si raffredda un pochino Prendiamo l'altro ingrediente che ci serve per la farcitura Possiamo togliere Andiamo a lavorare un pochettino 500 g di ricotta Voglio profumare la ricotta Con un po' di foglioline di menta tritata Possiamo farcire il nostro rotolo Ora andrò ad aggiungere Dei pomodori secchi Che ho tagliato a pezzettini E dei pinoli Potete farcirlo come più vi piace Ad esempio al posto della ricotta potete usare un filadelfia Magari abbinato ad un prosciutto cotto Gli ingredienti da sostituire sono tantissimi Adesso lo andiamo ad arrotolare E ci aiutiamo con la carta Ora lo andiamo a riporre in frigo per 20-30 minuti E poi possiamo tagliarlo a fette E ci vediamo tra poco Riprendiamo il nostro rotolo di spinaci Che è riposato per una mezz'oretta in frigo Andiamo a tagliarlo Guardate che bello Ora lo andiamo a disporre su un bel piatto Finiamo di decorare il nostro piatto Con un pochino di olio E dei granelli di pepe fresco Come sempre non mi resta che augurarvi buon appetito E alla prossima ricetta Questo è davvero strepitoso